Visti i pensionamenti dei medici di base, trovare i sostituti è una difficoltà che sta riguardando sempre più i comuni del territorio nazionale. Una carenza che vede colpire anche il comune di Sassocorvaro Auditore, che da oggi nelle frazioni di Casinini e la stessa Auditore, si ritrova senza questa figura medica, lasciando provvisoriamente scoperti circa 5.000 abitanti. Al momento succede che noi quest'anno abbiamo il secondo pensionamento dei medici di medicina generale che era qui sul nostro territorio, presente sul territorio e ad oggi non sono stati individuati dei sostituti. Però diciamo che al momento la situazione è sotto controllo perché abbiamo la disponibilità di altri tre medici che sono presenti sul comune di Sassocorvaro Auditore, quindi questi tre medici hanno dato la disponibilità ad accogliere anche i pazienti e gli assistiti dei medici che sono andati in pensione. L'ASUR ha allargato il numero di assistiti ai medici, quindi superando i 1.500 pazienti a carico ad ogni medico. In questo modo a tutti i cittadini verrà garantito il diritto alla salute e quindi di avere un medico di medicina generale. Allargando il numero ai medici presenti, grazie alla loro disponibilità, riusciamo comunque a far fronte a questa emergenza e garantendo comunque il medico sul territorio. Quindi io invito i cittadini, anche come è stato comunicato dall'ASUR, di recarsi presso il distretto di Macerata, Fentria o Urbino per individuare il medico sostituto. Nel frattempo stiamo lavorando quotidianamente con l'area Vasta 1 e con l'ASUR Marche per cercare di individuare un nuovo medico sostituto dei pensionati. Ci sono buone possibilità. Al momento l'ASUR ha contattato alcuni medici e sta lavorando per individuare il sostituto il prima possibile. Purtroppo non è semplice perché anche a seguito della pandemia molti dottori sono stati assunti in ospedale e quindi sono in servizio per gli ospedali ed è difficile.